Punto 5. La casa del Fuzzalla. Il martedì alle 23 su PUM. La partita prossima, il francese ha fatto l'inglese e il frato l'uso. La partita prossima, la partita prossima. La partita prossima, la partita prossima, la partita prossima. La partita prossima, la partita prossima. La partita prossima, la partita prossima. La partita prossima, la partita prossima, la partita prossima. La partita prossima, la partita prossima. La partita prossima, la partita prossima. Grazie. Grazie. Grazie.